Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus Tg, come sempre di sabato trascorreremo assieme un'ora con tutte le ultime notizie dal Veneto e i collegamenti dalle nostre redazioni provinciali. Partiamo dalla provincia di Venezia, andiamo a Mestre. La settimana scorsa vi abbiamo raccontato la protesta dei lenzuoli nel quartiere di Via Piave, dove si vive un forte problema di spaccio di stupefacenti. Non è l'unico quartiere di Mestre in difficoltà. Un altro è Altobello, dove i residenti stanno raccogliendo firme perché si cerchi di porre fine a una lunga serie di problemi che affliggono il rione. Ci colleghiamo subito in diretta con Ilaria Marchioni, che è per noi ad Altobello, con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso della chiesa del quartiere Altobello. Insieme a noi c'è padre Robi, così sceglie di farsi chiamare. Benvenuto padre. Allora, innanzitutto lei, insieme anche alla comunità, siete esausti. Che cos'è successo proprio nelle ultime ore? I giorni scorsi, praticamente due giorni fa, alla sera circa quattro giovani drogati, insomma, si sono bucati nel retro della chiesa, sugli scalini, pieno di silinghe, sangue dappertutto, spaventando anche e soprattutto coloro che abitano lì, nei dintorni, insomma. Quindi per me è una grande preoccupazione soprattutto per i bambini, prima di tutto, perché passano di lì tutti i bambini che vanno alla scuola materna, che nelle vicinanze. Gli anziani, la paura di essere derubati, maltratati, eccetera. Per cui adesso con il Consiglio pastorale, con insomma tutte queste persone che collaborano a rendere bella questa zona, perché è un bene di tutti, il bene comune va salvato. A me non interessa religione o chissà quali poteri, mi interessa solo che la realtà qui diventi una comunità bella. Con tutti quelli che ci sono, che siano Bangladeshi, che siano cristiani, che siano atei, non importa. Per me è importante che insieme riusciamo a costruire un ambiente vivibile e dove tutti quanti possiamo veramente vivere la cosiddetta regola d'oro, che non fare all'altro ciò che non fuori sia fatto a te. Quindi questo credo sia molto importante. Ecco padre, anche per questo, allora noi l'abbiamo seguito negli ultimi anni, tante le proteste, c'era stata anche una marcia che aveva visto la partecipazione di centinaia di persone proprio per lanciare un forte messaggio. La situazione comunque, soprattutto in determinate zone, sembra non essere migliorata, il quartiere, i cittadini e anche insieme a lei avete avviato una raccolta firme per chiedere che cosa? Sì, una raccolta firme, ci avete anche lo scritto, penso che poi lo pubblicherete, insomma, e soprattutto perché ci siano questi interventi delle forze dell'ordine, insomma, di chi di dovere per aiutarci veramente a vivere in un ambiente bello, insomma. Voi chiedete più controlli fondamentalmente? Sì, diurni, notturni, soprattutto notturni, perché quello che avviene è soprattutto di notte e quindi anche, non so, l'illuminazione pubblica, telecamere e quant'altro, insomma, che possa aiutarci comunque a creare un ambiente sereno. Chiediamo questo, la serenità di tutti i cittadini. Lei, padre, si è trovato ad affrontare questi personaggi, a cacciarli anche di persona? Perché comunque sono situazioni, abbiamo visto le fotografie dei giorni scorsi, adesso è tutto pulito perché è intervenuta Veritas, poi c'è stata anche la pioggia, però è stato tutto ripulito ma i gradini erano pieni di sangue, poi c'erano siringhe. Certo, c'erano 5 o 6 siringhe con tante chiazze di sangue enormi, insomma, dalle foto si possono vedere quello che è avvenuto, insomma, no? Come dire, cioè, quindi credo che, cioè io, quelle persone io non le ho viste, perché è avvenuto alle 10 e mezza di sera circa, però altre volte mi è capitato invece, per esempio io sono molto aperto a tutti, insomma, per cui anche il nostro patronato, che apriamo a tutti, quindi anche i bambini del Bangladesh, perché per me sono come se fossero i miei figli, insomma, non è che faccio distinzioni, ecco, però è capitato tempo addietro, anche lì, di questi più grandi che fumavano e quindi probabilmente anche giro di spaccio, eccetera, per cui a un certo punto ho detto no, se è così, qui dentro si entra per stare bene, non per portare del male, per cui è lì, c'è stato un episodio in cui ho dovuto chiamare i carabinieri perché hanno scavalcato, io sono responsabile, se uno si fa male lì dentro, cioè la colpa poi diventa mia, insomma, per cui, cioè credo che, insomma, un po' tutti dobbiamo darci da fare, ecco, io mi metto in prima linea, ma vorrei che ci fosse anche l'appoggio un po' di tutti, che già c'è, perché sono circondato da persone veramente in gamba, persone che hanno a cuore, penso anche quello, insomma, tutto il mio desiderio di poter vivere serenamente e insegnare anche dai bambini, purtroppo quello che manca è anche un po', soprattutto, diciamo, la presenza di adulti del Bangladesh, per esempio, perché noi vogliamo collaborare, non c'è nessun problema proprio. Ecco, avete sentito dunque qual è l'appello di Padre Robi, che comunque si fa portavoce di tutta la comunità di Altobello, questo, non lo so se riusciamo a farvelo vedere, è il volantino che è stato prodotto per lanciare questa raccolta di firme e per chiedere maggiore sicurezza qui nella zona, ma anche nelle vie limitrofe, perché sappiamo che questo è uno dei quartieri preso di mira, ma non è l'unico, come dicevamo appunto all'inizio del nostro collegamento, maggiore sicurezza, più controlli e eventualmente anche più telecamere di video sorveglianza. Io ringrazio Padre Robi per la sua disponibilità, qui dal quartiere di Altobello restituisco la linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Ilaria Marchiori in collegamento in diretta dal quartiere di Altobello a Mestre, insomma avete sentito com'è la situazione, noi adesso voltiamo pagina perché ci attende un'importante scadenza elettorale, tra poche ore si apriranno le urne, allora andiamo a vedere come ci si sta preparando a Bassano del Grappa. Fervono i preparativi, mancano poche ore al voto e all'interno dei seggi elettorali si sta già lavorando, andiamo a vedere come. Con il presidente del seggio, Adriano Ferraro, vediamo che si sta lavorando già dalle prime ore di questa mattina, che cosa state facendo adesso? Stiamo predisponendo le schede, quindi le stiamo timbrando e le stiamo firmando in modo tale che siano pronte per darle alle persone che vengono a votare. Le persone che vengono a votare devono ricordarsi di portare il certificato elettorale che deve avere un posto libero, perché se non ha un posto libero devono tornare in comune e farsi rifare il certificato elettorale, perché non può essere accettato se tutti quanti i timbri sono già stati utilizzati. Devono poi avere la carta d'identità, si presentano al seggio con la carta d'identità e il timbro, si presentano dalle persone che le registrano. Quando le registrano poi si procede direttamente alla votazione. Adesso diamo delle indicazioni su come si vota. Allora, le schede elettorali, questa è la scheda elettorale del Parlamento europeo, si vota segnando con una X su una qualsiasi lista, quella prescelta, una sola, mi raccomando, e segnando tre nominativi che di genere devono essere o due maschi e una femmina o due femmine e un maschio. Non possono essere tre dello stesso genere. Diverso invece per quello che riguarda il voto per le amministrative, qui c'è qualche accortezza in più. Sì, per quanto riguarda le amministrative c'è qualche accortezza in più perché si elegge direttamente il sindaco. Quindi nel momento in cui io vado a identificare il sindaco, qualsiasi esso sia, chiaramente non va direttamente il voto alla lista. Mentre l'opposto vale, cioè se io voto direttamente la lista, il voto va al candidato sindaco che fa partecipare della stessa lista. Quindi in questo caso ricordiamoci che è importante segnare la lista con una crocetta, una sola lista e poi segnare direttamente i nomi. I nomi che possono essere un maschio e una femmina, non possono essere due maschi o due femmine. Di particolare per quanto riguarda le comunali c'è il voto disgiunto, cioè io posso anche segnare il nome di un sindaco, qualsiasi esso sia, e il nome di una lista diversa che non fa parte di quello che è il sindaco. Quindi possiamo trovarci con una lista in una parte e invece il sindaco totalmente di un'altra parte. Questo si chiama voto disgiunto. Partiamo da un'indicazione oraria. Quando inizia lo spoglio? Allora, intanto ricordiamoci che iniziano oggi alle 15 le votazioni. Lo spoglio inizierà direttamente dopo le 23 di domani sera per quanto riguarda le europee. Invece inizierà le 14 di lunedì per quanto riguarda le comunali. Quindi probabilmente durante la nottata si avranno i risultati di quelli che sono le europee, mentre la sera del lunedì si avranno i risultati di quelli che sono le comunali. Fino a che ora si lavora domenica notte? Dipende. Si potrà anche lavorare fino alle 2-3, insomma 4. Poi dipende sempre se ci sono problematiche perché se ti sfugge una scheda è sempre un grosso problema. Quindi di solito a me non è mai successo, toccando ferro, speriamo che non succeda quest'anno. Però di solito si fanno 2-3 ore per lo scrutinio. Le comunali è un po' più complicato perché essendoci tanti candidati sindaci ma anche candidati delle liste, ognuno deve essere in particolare gestito e poi c'è il voto di aggiunto che può creare problemi. Quindi sicuramente io prevedo che 3-4 ore servano tutte per fare questo tipo di attività. Questa era Alex Iuliano da Bassano del Grappa. Noi invece dalla provincia di Vicenza ci sposiamo alla provincia di Treviso a Preganziol dove in un altro seggio è per noi presente in diretta Francesca Bozza. Buongiorno Francesca. Buongiorno Filippo e buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo alle scuole elementari di Preganziol. Insieme a me Fabio Fuelega che è il presidente del seggio numero 3 al quale chiedo subito questa porta sigillata perché il tutto è già allestito. Presidente. Sì, abbiamo iniziato questa mattina, il seggio viene costituito alle 9 in queste elezioni e appunto c'è un processo di vidimazione delle schede e di siglatura a parte degli scrutatori e quindi una volta completate queste operazioni e redatto il verbale per la giornata di la mattinata di oggi si chiudono appunto le sedi elettorali e si riprenderà oggi pomeriggio alle 15 quando iniziano le votazioni. Ecco perché si vota ed è la prima volta di sabato quindi primo giorno di voto oggi dalle 15 alle 23 e poi nella giornata di domani domenica dalle 7 alle 23. Per questo doppio appuntamento perché 3 milioni 700 mila veneti sono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo ma si vota anche in 309 comuni veneti per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Sono 24 i comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali salvo insomma nei casi in cui ci sono solamente due candidati nel caso uno nessuno nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta i cittadini dovranno ritornare al voto per il ballottaggio domenica 23 lunedì 24 giugno. Un solo capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale stiamo parlando di Rovigo ma ci sono tanti altri centri particolarmente attenzionati in questa tornata elettorale come Bassano del Grappa, Arzignano, Schio, Legnago, Vittorio Veneto, Spinea e Porto Gruaro. Al voto per la prima volta anche tre comuni istituiti proprio nel 2024 grazie ad altrettante fusioni. Sto parlando di Sovizio, Santa Caterina d'Este e Setteville. Una curiosità poi per quanto riguarda il territorio bellunese dove su 31 comuni al voto praticamente la metà 15 avranno un unico candidato alla poltrona di primo cittadino significa che qui è fondamentale raggiungere il quorum per evitare il commissariamento. Come detto qui a Preganziol è uno dei quattro comuni della marca trevigiana dove si voterà anche per il rinnovo del sindaco su uno dei quattro comuni della marca trevigiana sopra i 15 mila abitanti insieme a Vittorio Veneto, Mogliano e Paese. Ma se a Preganziol e Paese sono solamente due candidati che si presentano e dunque non ci sarà bisogno del ballottaggio potrebbero invece tornare alle urne tra 15 giorni per appunto il turno di ballottaggio i cittadini di Mogliano e Vittorio Veneto. Tornando all'europea il Veneto rientra nella circoscrizione nord-est insieme a Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige ed Emilia Romagna. Qui in particolar modo Presidente saranno due le schede che verranno consegnate ai cittadini. Sì, la prima appunto riferita alle elezioni europee di colore marrone, la seconda scheda invece riferita alle amministrative di colore blu. Entrambe le schede vengono consegnate al cittadino o alla cittadina che vuole votare per l'espressione del proprio voto. Chiaramente ricordiamo anche che c'è una differenza per quanto riguarda il cosiddetto voto disgiunto che non sarà possibile per le europee. Sì, esiste questa possibilità solo per le amministrative, questo perché nelle elezioni amministrative ci sono delle coalizioni e quindi un cittadino o una cittadina che esprime il proprio voto può esprimerlo dando il voto al candidato sindaco di un raggruppamento e magari una preferenza a un candidato invece che dello schieramento avverso. Questa possibilità è stata data proprio perché in ambito locale i candidati sono conosciuti anche personalmente dai cittadini e quindi si vuole ampliare la sfera di libertà dei cittadini in questo modo. Per quanto riguarda invece le schede bianche o le schede nulle, queste dove finiscono? Come vengono conteggiate, Presidente? Queste schede sono collocate in delle buste apposite e ovviamente non vengono i voti bianchi o nulli, non vengono conteggiati nell'insieme dei voti validi, quindi sono esclusi dai voti validi pur essendo inseriti ovviamente nel conteggio complessivo delle votazioni. Allora, lo ricordiamo, si vota oggi sabato dalle 15 alle 23 e domani domenica dalle 7 alle 23 con due step diverse per quanto riguarda poi lo scrutinio perché si inizierà per un primo spoglio domenica. Sì, le europee vedranno lo spoglio subito al termine delle operazioni di voto dopo le 23, invece le amministrative e le elezioni comunali avranno lo spoglio alle 14 di lunedì 10. Insomma, un weekend che si prolungherà poi a lunedì di intenso lavoro per Presidenti di Seggio e poi per tutti coloro che fanno parte appunto dei Seggio e quindi da parte nostra un buon lavoro a tutti quanti e se non ci sono domande Filippo ti restituisco la linea. Credo che tutto chiarissimo Francesca, grazie a te, grazie al tuo ospite. Naturalmente vi ricordo che lo spoglio lo potrete seguire interamente in diretta su Rete Veneta per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale su come andranno queste elezioni in Europa e anche nei tanti comuni del Veneto che sono chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale, all'elezione del Sindaco. Noi per ora voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Due anni dal duplice femminicidio di Via Vigolo a Vicenza, i dati della violenza sulle donne raccolti dal centro antiviolenza Donna Chiama Donna, anche alla luce dei numeri allarmanti divulgati in questi giorni dall'arma dei Carabinieri di Vicenza che parlano di tre denunce al giorno di media. Pensate per codice rosso raccolti solamente nel Vicentino dei Carabinieri. Luisa Bertini e Simone Squarcina hanno sentito. Per noi Sonia Bardella, volontaria di Donna Chiama Donna. Violenza sulle donne, tema quanto mai alla ribalta nazionale. Qui a Vicenza sono stati resi noti i dati forniti dai carabinieri provinciali. 929 risultano le denunce nell'ultimo anno per codice rosso, quindi tema da affrontare da più fronti. Io adesso sono in compagnia di Sonia Bardella, volontaria del centro antiviolenza Donna Chiama Donna. I dati che arrivano a voi, di cosa parlano? Quante persone si rivolgono? Quante donne? Allora, noi abbiamo i dati adesso del 2023 e tra Arzignano e Montecchio, perché abbiamo anche lo sportello antiviolenza ad Arzignano, contiamo 400 donne circa che si sono rivolte a noi. Non solo in prima battuta, sono anche situazioni che provengono dagli anni precedenti, perché come sappiamo il cammino verso l'affrancamento, verso la propria indipendenza, la propria costruzione, la ricostruzione di sé è un percorso lungo e ha bisogno di molto impegno, sia da parte della donna sia da parte delle operatrici che la affiancano sempre. Lei mi diceva che però è cambiato in questi ultimi anni le modalità di violenza. Sì, allora, proprio dagli operatrici del CER abbiamo questa segnalazione che i casi di violenza sono diventati più efferati, più cattivi. Di tutti i casi che purtroppo abbiamo visto e descritto di femminicidio, lei mi diceva che il caso Giulia Cecchettin ha lasciato una scia soprattutto tra i giovani. Sì, certo. Questo caso ci ha imposto, per qualche verso, di creare un nuovo sportello di ascolto indirizzato proprio ai giovani, sia alle ragazze ma anche ai ragazzi. Questo sportello si chiama filo sottile ed è rivolto proprio ai giovani dai 18 ai 30 anni. È possibile anche sentire dei minorenni, naturalmente con l'assenso dei genitori, insomma con il lasciapassare dei genitori, adesso non mi viene la parola giusta. Ecco, io credo che questo sia particolarmente importante perché dopo Giulia sono aumentate le richieste. Perché il centro di violenza di solito si attesta su un'età dai 40 in su. Adesso che stanno aumentando queste richieste da parte dei giovani ci pare particolarmente importante porre l'accento anche su quelle che sono quelle modalità, chiamiamole così consuete, tipo per esempio il controllo del telefono, il controllo di come uno va vestito, che possono assumere delle valenze veramente tossiche, e possono essere dei segni indicativi che la relazione sta andando in una certa direzione di potere e di controllo. Chiudiamo dicendo che i numeri in aumento in realtà sono determinati anche da un aumento di consapevolezza e sensibilità. Assolutamente, allora noi registriamo questo dato, insomma che le persone si stanno rivolgendo un pochino di più e vuol dire che sta aumentando la consapevolezza che possono ricevere aiuto. Poi restano invariati i problemi grossi che sono le soluzioni abitative e l'aspetto economico. Noi sappiamo che molte di queste donne che escono da situazioni di violenza hanno bambini piccoli, molto spesso sono casalinghe e quindi per loro è importante, è fondamentale per ritrovare lo slancio verso l'indipendenza, avere anche la sicurezza sia abitativa che economica e questa è la grande sfida. Io ringrazio la nostra ospite, abbiamo sentito violenza sulle donne ovviamente da affrontare su più fronti. Grazie a Sonia Bardella. Grazie anche ai nostri colleghi di Vicenza per questo contributo. Luisa Bertini con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Noi ci spostiamo ma rimaniamo sempre in provincia di Vicenza perché c'è un'emergenza, c'è una nuova emergenza meteo soprattutto legata alle frane che si sono verificate a Marostica. Ci colleghiamo in diretta con Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, dicevi bene, emergenza meteo, allora ti do un aggiornamento. In questo momento c'è il sole ma fino a pochi minuti fa in varie zone, diciamo a macchia di leopardo, sono verificati degli acquazioni brevi ma intensi che però possono provocare ulteriori danni in una zona già provata negli ultimi dieci giorni da centinaia, oltre 600 mm di pioggia caduti solamente in questa zona crozara frazione di Marostica. Siamo a un'altitudine di 400 metri, temperatura attualmente intorno ai 25 gradi, tanta umidità e ancora apprensione per quello che potrà succedere nei prossimi giorni viste proprio le previsioni meteo. Quella che è alle mie spalle, si intravede appena ma le immagini a disposizione ci mostrano la zona dall'alto, dall'elicottero, è una delle 52 frane attive nel comune di Marostica. In una quarantina, appena passata la fase critica delle precipitazioni nei giorni scorsi, poi salite a 47, a 51 e oggi ultimo aggiornamento a 52. Il comune ci informa però che nel frattempo sono state riaperte alcune strade nel territorio comunale, via Foggiati, via Cansignorio, che è quella che accede al castello superiore, il sentiero dei Carmini e che è anche aperta alla mostra degli umoristi proprio al castello superiore di Marostica. Rimangono chiuse al traffico, lo diciamo anche ai turisti che intendessero arrivare qui per il fine settimana, sono chiuse al traffico via Erta, via Boli, via Valeri, via Perozzi-Filisedo, mentre è aperta ma con impianto semaforico, quindi a senso alternato, via Adani e anche via Colpi Pivotti. La situazione ci confermavano dal comune, è sotto costante monitoraggio, qui a Crozara sono iniziati gli interventi più consistenti per liberare la valle che sovrasta il paese dalla vegetazione, dal fango che si è accumulato e non è potuto scendere a valle. Un lavoro intenso che richiede anche il passaggio di mezzi pesanti, scavatori, camion, appunto, per cui è stata liberata la strada nei giorni scorsi. Un altro avviso importante per la cittadinanza colpita da danni causati dal maltempo, viene richiesto di tenere un'opportuna documentazione fotografica, quindi fatture o preventivi che possano confermare o comprovare i danneggiamenti nel caso poi venisse confermato, e ce l'auguriamo ovviamente per chi ha subito danni, lo stato di calamità naturale. È confermata la manifestazione di domani, il palio della Carretera, che è una delle iniziative tradizionali di Marossica, con alcune chiusure di strade, ma in questo caso si tratta di chiusure legate proprio alla logistica dell'evento di questo palio. Dunque si continua a lavorare, lo si farà anche nei prossimi giorni, in attesa purtroppo che arrivino anche altre piogge che speriamo non peggiorino la situazione. Per il momento con Alessandro Costa Curta, da Crosara di Marossica è tutto, a te la linea Filippo. Grazie, grazie a Mirko Cavallin in collegamento in diretta da Marossica, noi invece adesso parliamo di Sant'Antonio, per cui ci spostiamo a Padova, vedo che Chiara Gagliani si trova già di fronte alla Basilica del Santo, con la collaborazione tecnica di Francesco Ratai. Allora a te la linea Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Padova si sta preparando alla festa del suo santo, non solo Padova, perché come potete vedere dalle immagini del collega Francesco Ratai, il Sagrato è già affollato di pellegrini. Abbiamo visto, non so se sono ancora presenti sul Sagrato, anche pellegrini che arrivano dall'Ucraina, vedete la loro bandiera. Molte persone che ovviamente si fanno anche i selfie con la Basilica, molte che entrano con le candele per portarle alla tomba di Sant'Antonio. Il gesto del pellegrino è proprio quello all'interno della cappella dell'Arca di toccare la tomba del santo, affidandogli le preghiere, le intenzioni, affidandogli le loro vite. Un santo molto amato nel mondo. Sono già migliaia i pellegrini che sono arrivati in questi primi giorni di giugno in attesa della festa che si celebra il 13 da tutto il mondo. Tra i gruppi stranieri più numerosi, i polacchi, ma pensate, sia in attesa di un gruppo dagli Stati Uniti, è arrivato un gruppo di pellegrini anche dalla Corea. Quest'anno, dopo quattro anni di fermo a causa della pandemia, anche le reliquie del santo sono tornate pellegrine nelle vie sulle strade del mondo. In questo momento sono a Toronto, in Canada, con padre Fabio Turrisenzio, una reliquia molto particolare, quella che contiene i frammenti della pelle e del viso di Sant'Antonio. Due pellegrinaggi sono programmati in questi giorni in Australia e, per la precisione, a Melbourne e ad Aderaide. Invece, padre Mario Conte, che abbiamo imparato anche a conoscere attraverso i suoi racconti quotidiani su Rete Veneta, in questo momento è negli Stati Uniti, a New York e New Jersey, con padre Alessandro Ratti, e porta con sé una reliquie del frammento di una costora del santo, che ha un significato davvero molto particolare per i fratti e per i devoti. Perché? Perché è stata venerata da Santa Lucia di Fatima a Coimbra nel 1995 e anche nel 2000 nella cattedrale di Buenos Aires dall'allora arcivescovo Jorge Bergoglio, che è appunto Papa Francesco. E noi, il 13 giugno, torneremo in diretta dall'Alba al Tramonto per raccontarvi la gioia di questa festa, la fede che c'è nelle persone che vengono, qui vivremo insieme tutti i momenti del 13 giugno, allora sentite il servizio in cui appunto vi racconteremo i dettagli di questa che sarà una bellissima giornata. Manca poco alla festa di Sant'Antonio, siamo nel pieno della tredicina che prepara i fedeli alla giornata dedicata ad uno dei santi più amati al mondo, giornata che sarà seguita come sempre in diretta da Rete Veneta tutto il giorno e quest'anno anche da TV 12 la TV del Friuli, che fa parte del network Media Nord-Est. Dall'Alba al Tramonto, a partire dalle 5.30 fino alle 22.30, la nostra emittente porterà nelle vostre case l'emozione e la fede che circonda Sant'Antonio. Potrete partecipare a tutte le sante messe, alla tradizionale processione che vi racconteremo in diretta, portandovi nel cuore della festa con tanti eventi in esclusiva. Attraverso il sito 13giugno.org potrete inviare una vostra preghiera, accendere una candela o fare una donazione per aiutare i più poveri. Padova in questi giorni si sta preparando, sta accogliendo i fedeli che quotidianamente arrivano in città per pregare sulla tomba del Taumaturgo. C'è grande attesa ed emozione per le strade che iniziano a vestirsi a festa esponendo i drappi con l'effigie di Sant'Antonio. E questa sera la continuano ovviamente gli appuntamenti del Tredicina. Questa sera in Basilica alle 18 è attesa anche l'Associazione di Genitori e Famiglie che hanno perso un figlio domani alle 11.00, il pellegrinaggio della Diocesi di Venezia con il patriarca Francesco Moraglia. Lo avete sentito, è possibile partecipare anche da remoto, sia attraverso la tv sia attraverso il sito 13giugno.org a questa giornata. Vi racconto, vi do insomma un invito a partecipare se potete ad un appuntamento del Giugno Antoniano. Oggi pomeriggio si parlerà di pace, il filo conduttore del Giugno Antoniano nello studio teologico del Santo con due donne, Maria Piaveladiano e Cristina Bellemo. Il tema proprio parole di pace, il momento più importante, il momento più atteso della giornata del 13 giugno è sicuramente la processione che partirà proprio da qui, dal Sagrato della Basilica al termine della solenne celebrazione delle 17 a portare la Statua del Santo, pensate ormai da mezzo secolo, la Campagnola, un auto della Polizia di Stato. Noi ve la facciamo scoprire nel prossimo servizio, poi da Padovi ringrazio per la collaborazione tecnica Francesco Ratai e la linea può tornare allo studio. Vista così con il tettuccio e senza drappi si fa fatica a riconoscerla ma una volta tolta la parte superiore si riconosce in questa Campagnola classe 74 la storica auto della Polizia di Stato che viene utilizzata per trasportare la statua di Sant'Antonio durante la processione del 13 giugno. Ormai dal 1977 si svolge con questa Campagnola, con questo veicolo che è appunto una Fiat Campagnola, cosiddetta Nuova Campagnola che tra l'altro quest'anno compie 50 anni. Una tradizione che si rinnova dal secondo dopoguerra e che lega la processione del Santo alla Polizia di Stato. in principio venne usata una Jeep Willis lasciata dagli alleati militari dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'esemplare che vediamo è stato restaurato per il 75esio anniversario della Costituzione del Reparto Mobile che si è tenuto l'anno scorso alla presenza del signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e per l'occasione appunto questo veicolo è stato riportato agli antichi splendori. Era ormai da anni che veniva utilizzato esclusivamente per il Santo. L'auto d'epoca viene di anno in anno sottoposta a manutenzione e partecipa anche a raduni di autostoriche a delle caratteristiche particolari e non può raggiungere grandi velocità. Devono rispettare determinate caratteristiche militari, ovvero intanto essere aviotrasportabili. Pertanto per essere aviotrasportabili doveva esserci la possibilità di rendere il veicolo torpedo come lo vediamo in questa conformazione, cioè senza finestrini, senza vetro e senza tetto. In particolar modo questo veicolo qua è una campagnola appunto HTL, cioè a hard top passo lungo, vuol dire che ha un tetto rigido e il passo è allungato perché nella sua versione operativa trasportava anche del personale operativo nella parte posteriore. C'erano delle panche trasversali al veicolo sul quale saliva il personale. Tra pochi giorni la campagnola arriverà in Basilica per essere preparata come ogni anno per la processione. Verrà allestita con il baldacchino storico, quello che vediamo ogni volta in televisione. Come ormai da tradizione da qualche anno, il conducente è sempre un poliziotto, mentre invece il passeggero ogni anno viene scelto fra frati che vogliono partecipare oppure, come stiamo facendo ultimamente, tra i pensionati della Polizia di Stato, quindi gli appartenenti all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che così nel solco della tradizione accompagnano l'autista. L'incedere solenne tra le ali di folla, salutati dalla devozione dei fedeli, è un momento di gioia che ogni anno si ripete. Questo dunque era il servizio di Francesco Ratai. Noi adesso ci spostiamo, ci spostiamo in provincia di Treviso, a San Zenone degli Ezzelini, perché parliamo della scomparsa dell'imprenditrice Barbara Carron, che è venuta a mancare per una grave malattia a 51 anni, imprenditrice, vicepresidente anche del Padova Calcio. Ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato. A te la linea Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai tre spettatori di Treveneta. Sono con Don Luigi Bordignon, che è stato l'officiante del funerale di Barbara. Lei nel corso dell'omelia ha letto un breviario davvero particolare. Sì, ho ripreso una specie di diario che Barbara ha scritto durante questo anno e mezzo, in cui è stata colpita dalla malattia, nel quale scopre i valori fondamentali dell'esistenza, della vita, il valore del tempo, il valore degli altri, il valore stesso anche del dolore che ti apre orizzonti nuovi e sconfinati. Si pone tante domande e trova certe risposte, ma la risposta più grande la trova in Dio e prega molto con il Salmo 91, dove si dice Tu, Signore, sei il mio rifugio, Tu sei la mia roccia. Oltre mille persone hanno partecipato all'ultimo saluto, segno di un abbraccio non solo della comunità qui di Careinati. Sì, certamente Barbara era una persona che aveva molte relazioni, molti legami, ha seguito il calcio a Padova per alcuni anni, poi ha lavorato tantissimi anni nell'azienda del papà ed era una donna intraprendente, una donna volitiva, una donna coraggiosa, per cui ha investito molto nell'amicizia. Lei l'ha incontrata tre giorni prima della sua scomparsa. Sì, io ho avuto la gioia e anche il dolore di vederla su un letto stanca, spossata, però serena, non angosciata. Ho avuto modo anche di darle il corpo del Signore nella festa del Corpus Domini e ho visto che dopo aver ricevuto l'Eucaristia si era serenata e ha detto adesso sono pronta per partire. Qual è il messaggio che ci lascia Barbara? Barbara ci lascia un messaggio molto bello, ci dice che non dobbiamo mai arrenderci di fronte alla vita, ci dice che dobbiamo piegarci alla realtà e saperla trasformare, che non dobbiamo scappare, ma scoprire dentro l'esistenza, quella che è e non quella che vorremmo, tutte le potenzialità e le opportunità che anche le situazioni più difficili e dolorose ci danno. Grazie Don Luigi e con questo ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato in collegamento da San Zenone e degli Ezzelini. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus Tg, parliamo ora della tragedia di Premariacco, di Orsaria, nella quale sono, come sapete, scomparsi tre giovani, è passata esattamente una settimana per cui riviviamo quelle che sono state queste giornate drammatiche. Una settimana è passata dalla tragedia che ha sconvolto Premariacco, il Friuli e che ha tenuto in apprensione anche tutta Italia e ovviamente la Romania, paese da cui provenivano i tre ragazzi investiti dalla furia delle acque, della semipiena del Natisone. Riviviamo una settimana vissuta in prima linea per darvi tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume, all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone. Trovati in mezzo hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi all'arrivo dell'elicottero, però di loro non c'era nessuna traccia. Grazie all'individuazione con un'attrezzatura dei vigili del fuoco con un drone notturno abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommarizzatori e dei soccorritori fluviali abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza e quindi di una delle ragazze che è quella che ha chiamato i soccorsi. Prima l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. A che distanza si trovavano rispetto al luogo dove sono state travolte dalla fiume? Possiamo dire che intanto erano distanti l'una dall'altra. dal punto in cui sono state travolte sarà quasi un chilometro, 700-800 metri. L'auto dei ragazzi con cui sono arrivati da Udine è ancora parcheggiata come vedete all'altezza dell'area di sosta. I tecnici del soccorso spele alpino fluviale scenderanno lungo la sponda per iniziare di nuovo la battuta verso Valle e nella speranza, come detto, di riuscire a ritrovare il ragazzo attualmente disperso. La conferenza stampa del procuratore Massimo Lia che ha subito chiarito come sia stata aperta un'indagine per omicidio colposo contro i gnoti. Solo dolore, non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere che c'è morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvato. Non si può fare altro che pregare. Sì, ho portato per le due ragazze che sono in bianco nella nostra tradizione e sono state sposate come un servizio che si fa veramente come le nozze. Con la lente di ingrandimento piazzata sull'intervento dell'elicottero, con i due velivoli, il trago da Venezia e quello del soccorso alpino da Campo Formido, partiti in orari diversi e arrivati in rapida successione, prima il secondo e poi il primo, sul posto, quando ormai i ragazzi erano già scivolati e l'unica cosa rimasta da fare per loro era per lustrare il natisone prima del rientro alla base. Citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è. Sulla scena del trasvedere l'elicottero non appare mai. Perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena. Una settimana che è passata e si cerca ancora Cristian, ma la situazione che non fa registrare, novità di sorta. Ed ora la storia di Sara, una donna vittima di violenza che con una lettera aperta aveva chiesto alla giustizia trevigiana tempi veloci. E' arrivata la sentenza, il suo ex è stato condannato a due anni e due mesi. Ora, dice Sara, la pena sia definitiva. Adesso dobbiamo vedere un po' i prossimi step e la speranza appunto che la condanna diventi eseguibile prima possibile. Esce dal tribunale tirando un mezzo sospiro di sollievo Sara, nome di fantasia, dopo che il suo aguzzino, il suo ex, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e stalking. Un inferno che la donna, qualche mese fa, aveva deciso di denunciare pubblicamente con una lettera aperta chiedendo alla giustizia trevigiana a tempi celeri. La risposta è arrivata, perlomeno quella del primo grado di giudizio, con l'uomo, 42 anni di treviso, giudicato in rito abbreviato. Non lo so se è una pena sufficiente, è una pena che sicuramente ha riconosciuto le aggravanti generiche. Adesso si tratta di capire se ci sarà l'appello. Il capitolo dunque non è chiuso, con il 42enne che continua a indossare il braccialetto elettronico e non può avvicinarsi alla vittima. Minacciata a suo tempo con un cacciavite e più volte molestata verbalmente, per non parlare delle minacce, ti sciolgo nell'acido una su tutte. L'importante è che venga eseguita e che faccio un discorso più generale, che questa storia possa essere una testimonianza anche per tante altre persone, per evitare che poi si verifichino casi molto più gravi, come anche quello che è successo la scorsa settimana, purtroppo. Chi riferisci a Giada? Sì, alla ragazza che è stata buttata. Blizza Piazzola sul Brenta, siamo in provincia di Padova. I carabinieri hanno scoperto un giro di rifiuti speciali, mescolati a quelli normali, in cambio di denaro. Ci racconta tutto Federico Fusetti. Il blizza è scattato all'alba, sei gazzelle dei carabinieri fermano in centro a Piazzola, un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti di Etra, la multiutility dell'alta Padovana, e fanno scendere gli operatori. Il camion viene condotto in deposito, mentre i lavoratori sono accompagnati in caserma. Un'attività delegata dalla procura e svolta dal comando provinciale dei carabinieri e dai nuclei forestali di Padova e Gran Torto. Già controlli di questo tipo sono stati fatti anche in passato. E proprio su queste esperienze abbiamo adottato una policy aziendale improntata alla trasparenza, alla legalità. Quindi i nostri dipendenti hanno protocolli comportamentali ben precisi che devono rispettare trattandosi di una materia delicata come quella dei rifiuti dove di solito scatta il penale. Secondo le indagini, in varie occasioni, i due dipendenti avrebbero deviato dal percorso di raccolta dei rifiuti utilizzando uno degli autocarri di Etra, azienda del tutto estranei fatti, per prelevare vari tipi di rifiuti da tre aziende dell'alta Padovana che poi, mescolati ad altri rifiuti, venivano inceneriti nel termovalorizzatore di Padova all'insaputa dal personale della struttura. I due avrebbero ricevuto in cambio somme di denaro. Durante le perquisizioni sono state trovate notevoli quantità di rifiuti speciali, ma non pericolosi, e in un'area di una delle due aziende i carabinieri hanno sequestrato una sorta di discarica abusiva all'interno della quale erano accattastati anche bancali di Eternit. Saremo inflessibili se qualcosa è stato commesso di fuori posto o qualche reato è stato commesso. Saremo al fianco delle forze dell'ordine, come sempre, in assoluta trasparenza e della magistratura a disposizione per fare chiarezza su questi fatti. La cosa che voglio dire comunque ai miei cittadini è che non stiamo dormendo, stiamo vigilando attivamente su questi fenomeni. Le ipotesi di reato a vario titolo sono corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, peculato, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. È stato rimesso in libertà dal giudice il camionista tedesco che travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellini. Il camionista era stato colto da Ictus e l'ultima udienza, il 27 maggio, è stata rimandata. Colpito da Ictus ischemico, Wolfgang Rieche è stato rimesso in libertà. Il camionista tedesco di 63 anni il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. Si era sentito male la sera del 23 maggio, immediatamente il ricovero in ospedale al caffoncello di Treviso. Il tribunale ha dunque revocato la misura degli arresti domiciliari a Wolfgang Rieche per la serietà delle sue condizioni fisiche e per l'attuale evoluzione della malattia che richiede un'assistenza continuativa. Di conseguenza, secondo il giudice, le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto. La misura cautelare è stata revocata principalmente, anzi, essenzialmente per le condizioni di salute attuali del signor Rieche che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Treviso al momento, quindi le sue condizioni sono estremamente gravi e tale appunto da ritenere che non siano compatibili con gli arresti domiciliari. Il 27 maggio scorso, dopo aver preso atto del malore di Wolfgang Rieche, l'udienza di battimentale è stata rinviata per legittimo impedimento al prossimo 24 giugno. Il camionista dunque potrà tornare a casa dai suoi parenti in Germania. E' poco comprensibile anche ai diretti interessati il vandalismo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito la sede Inail di Padova. I danni sono ingenti. Una sorpresa del tutto sgradita quella che si è trovato di fronte il portiere dello stabile della sede padovana dell'Inail in via Nensì. Nella notte, infatti, sono state realizzate scritte ingiuriose riconducibili al movimento Novax Vivi, un atto vandalico che non ha precedenti contro l'ente nazionale che si occupa di sicurezza e infortuni sul lavoro, tanto da far pensare ad un errore. Non vorrei che magari avessero capito male l'obiettivo, non lo so, per noi è ingiustificabile questa cosa, è incomprensibile. La direzione dell'Inail non riesce a trovare un collegamento tra l'attività dell'istituto e le scritte apparse nella notte. Solo due mesi fa, l'8 aprile, scritte della stessa matrice erano apparse sui muri della fiera. Tutti i colleghi sono stati solidari tra di loro e con me e con tutti, proprio perché non si riusciva a comprendere questa cosa, visto che è considerato che c'è un impegno profuso quotidianamente per non solo il raggiungimento degli obiettivi di protezione che comunque tutte le amministrazioni, tutti gli istituti hanno, tutte le organizzazioni hanno, ma proprio per il servizio che l'istituto rende e svolge nei confronti degli utenti, ma anche gli stessi utenti che erano qui questa mattina, erano alibiti ed erano un pochettino preoccupati anche di questa cosa e la solidarietà è venuta soprattutto da loro. Ancora non è chiara l'entità dei danni procurati dal vandalismo, resta però l'inquietudine per un gesto deprecabile e senza precedenti all'INAIL sui vandalismi, indaga la Digos, subito allertata dalla dirigenza. Non c'è solamente un danno morale che riguarda il gesto in sé, ma proprio il danno che ne scattolisce, perché come lei avrà avuto modo di vedere sono stati imbrattati sia i muri, ma anche le vetrate, anche la struttura metallica che ha l'ingresso della sede, quindi anche lo stesso camminamento e l'ingresso della sede che peraltro tutt'oggi creava qualche problema anche di odori, di respirazione. Una persona è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 3.45 di questa notte lungo la tangenziale di Mestre all'altezza dell'area di servizio Bazzera ad essere coinvolti un autotreno in servizio di corriere e un camion di servizi stradali di Autovie Venete. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi con l'ausilio dell'autogrua arrivata da Treviso, i sanitari del SUEM, la polizia stradale e altri ausiliari di Autovie Venete. Ci fermiamo per un istante ancora e ci rivediamo tra pochissimo. Siamo arrivati a Focus TG, andiamo ad Olo per raccontarvi la protesta degli studenti di un istituto superiore in cui da tempo è stata denunciata la mancanza di aule. È stata definita una passeggiata educativa ma è molto di più. Oltre un migliaio tra studenti e insegnanti del liceo scientifico Galilei di Dolo infatti ha voluto porre l'attenzione camminando per le vie del paese su un problema che le affligge ormai da anni la mancanza di aule che obbliga dieci classi per lo più seconde a fare lezione a Villa Mocenigo a Oriago a otto chilometri dalla sede centrale. Una scelta fatta in tempo di Covid per ovvi motivi ma che continua. A nulla sono valse le oltre 60 PEC inviate e le richieste di intervento. Non abbiamo avuto nessun riscontro da parte dell'amministrazione e di chi ci gestisce. È un bacino molto ampio. Ci hanno sempre detto che la scarsa natalità risolverà tra virgolette questo problema. noi non lo vediamo questa riduzione della natalità forse perché è più il caso di parlare di residenzialità. Questi comuni stanno aumentando la residenzialità e di conseguenza il numero di famiglie o di abitanti aumenta. Le richieste di iscrizione infatti sono aumentate nel tempo ma le aule restano quelle. Non solo. Sempre di più ci sono studenti con certificazioni che richiedono di poter venire qui al liceo. Di conseguenza la nostra necessità di aule deriva anche dal fatto che non possiamo pensare di continuare ad avere aule da 28-29 studenti perché per legge magari dobbiamo farle da 25 o da meno in funzione delle difficoltà, delle complessità di creazione di quella classe. L'istituto ha anche a disposizione degli spazi per chi ha una disabilità creati ad hoc ma così diventa sempre più difficile anche l'inclusività. C'è anche un altro problema che riguarda noi docenti perché per arrivare a Oriago noi dobbiamo avere un'ora di servizio in più per spostarci con i nostri mezzi e questo è un disagio che ha anche un costo economico per noi. L'appello arriva in primis dai ragazzi. Un sentimento un po' di esclusione nei confronti delle classi che si trovano in villa ma è una cosa che non si può risolvere con i mezzi che abbiamo adesso e questo è il motivo per cui noi chiediamo maggiori spazi appunto in aree quantomeno limitrofe alla sede centrale e appunto per risolvere queste problematiche che possono anche passare come esclusione che però non hanno delle vere e proprie soluzioni tramite i mezzi che abbiamo in questo momento. Dati in crescita per il consorzio del Prosecco DOC quasi il 10% in più di imbottigliamenti rispetto al precedente segno di un mercato che continua a crescere sono i primi dati in mano a Giancarlo Guidolin che al suo esordio da presidente ha rilasciato in esclusivo un'intervista ai nostri microfoni. La prima stretta di mano nel giorno di entrata nella sede del consorzio di Via Calmaggiore il neopresidente Giancarlo Guidolin l'ha fatta allo storico direttore del Prosecco DOC Luca Giavi poi il passaggio all'ufficio tutela dove i prodotti taroccati e scoperti sono quasi dei trofei a testimonianza delle battaglie vinte per difendere quello che al momento il vino più venduto e apprezzato al mondo. Primi passi del successore di Stefano Zanette che non si aspettava però questo incarico. Non me lo aspettavo assolutamente poi strada facendo c'è stata una condivisione sulla mia persona e ho accettato molto volentieri e ringrazio il consiglio che mi ha votato all'unanimità. Condivisione raggiunta dopo lunghe trattative tra le diverse anime del consorzio. Come continuare a far dialogare le diverse anime del consorzio? Allora dialogare con le diverse anime del consorzio vuol dire avere equilibrio fra le varie esigenze e fra i vari problemi e le prospettive che ha ogni anima del consorzio vale a dire i produttori, i vinificatori e gli imbottigliatori. Ed è a loro che il Presidente lancia un primo chiaro messaggio. Nessuno deve pensare di aver assolutamente ragione se tutti ci mettiamo assieme e comprendiamo che ogni componente della filiera deve comprendere anche le problematiche dell'altra componente avremo sicuramente un risultato positivo. Stessa indicazione per il fronte esterno con un altro chiaro segnale ai due neopresidenti del DOCG di Asolo e soprattutto del Conegliano Valdobiadene. Il dialogo è aperto ma i tempi non sono ancora maturi. Dialogo e chiarezza quindi del Presidente di un consorzio in continua crescita. Quasi 9% in più di venditi a maggio rispetto allo stesso mese del 2023 con un grande ritorno del Rosé che segna addirittura un più 23% rispetto allo scorso anno. Quasi 500.000 gli ettolitri imbottigliati a maggio con tutti i segni positivi nel mese, nel trimestre e nell'anno in corso. Ma questo non vuol dire però che la DOC aprirà nuove conversioni. Visto il successo del Prosecco e le richieste pensate di convertire Glera a Prosecco? Attualmente no. Come abbiamo fatto in questi anni abbiamo fatto un atteggimento straordinario per soddisfare le esigenze del mercato. Altro segnale importante per i viticoltori è chi vuole investire in nuovi appezzamenti. Infine l'augurio a tutto il mondo del Prosecco e non solo. Mi auguro che tutto il mondo Prosecco possa crescere perché naturalmente porta benefici a tutto il territorio. In tutto il mondo si è celebrata la giornata internazionale per la sicurezza alimentare è una responsabilità collettiva perché le malattie causate dagli agenti patogeni degli alimenti sono emergenti. Tiziana Bolognani da Belluno. In provincia di Belluno nel 2023 sono stati 65 i casi registrati di malattia a trasmissione alimentare. Prevale la salmonellosi a seguire campi lobatteriosi, gastroenterite virali, infezioni da stec causato da escherichia coli e poi listeriosi, scigellosi e epatite A. Sono considerati rilevanti dal servizio veterinario di igiene e alimenti di origine animale dell'ULS1 ma la situazione è sotto controllo grazie a una rete che integra professionalità e controlli per la tutela della salute dei cittadini. Una serie articolata, complessa e completa di verifiche sui diversi stadi della produzione degli alimenti proprio secondo un approccio from the farm to the fork che denotano l'assenza di criticità rilevanti per cui sicuramente soprattutto nel nostro contesto territoriale diciamo che abbiamo prodotti di qualità e che rispettano gli standard richiesti attualmente. Diverse le informazioni utili emerse durante il punto stampo organizzato in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare i cibi crudi sovente sul banco degli imputati non devono essere assunti da bambini, anziani e immunodepressi ma non rappresentano il principale pericolo delle tossinfezioni alimentari attenzione particolare deve essere posta sulle carni avicole e suine mal cotte o ricontaminate dopo la cottura sul latte crudo e più di ogni cosa sugli alimenti di origine vegetale verdura e frutta soprattutto i frutti di bosco congelati per evitare brutte sorprese la regola principale è il buonsenso possono derivare da una scarsa conoscenza delle metodiche di base per il controllo di queste malattie ricordiamoci l'importanza del lavaggio delle mani evitare le contaminazioni crociate tra prodotti crudi e prodotti cotti e in qualche modo rispettare appunto la data di scadenza o il termine minimo di conservazione degli alimenti poi ovviamente ci vuole sempre un po' di buonsenso la filiera alimentare è controllata scrupolosamente così come puntuale il monitoraggio nella ristorazione collettiva mensi e scolastiche, case di riposo oltre che delle acque in previsione delle olimpiadi è stata potenziata l'attività di controllo igienico-sanitaria di alberghi, rifugi, bed and breakfast, ristoranti queste attività svolte in maniera preventiva ci consentono di evitare delle non conformità potenziali a valle per cui l'obiettivo è prevenire facciamo controlli multidisciplinari nell'ambito della sicurezza alimentare il gioco di squadra è fondamentale operatori economici, autorità sanitarie ma anche e soprattutto i consumatori quindi direi che è veramente una responsabilità collettiva tutto tondo era questo l'ultimo servizio di Focus TG vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera alle 18.50 con il telegiornale di Bassano del Grappa a seguire il telegiornale di Vicenza grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti